Buongiorno a tutti, bentrovati al TG2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. 4.742.000 nuovi poveri. L'Istat scatta la fotografia degli italiani che vivono in povertà assoluta. Per loro difficile procurarsi il necessario quotidiano per mangiare e vestirsi. Dato stabile rispetto all'anno precedente, ma secondo l'Istat cambia la tipologia dei nuovi poveri. Sono le famiglie numerose dai tre figli in su, padre operaio, madre casalinga, figli piccoli. Cresce in Italia il numero dei bambini poveri e a sorpresa il numero aumenta di più nel centro Italia e nei comuni fino a 50.000 abitanti. Non si placca l'emergenza, incendi, brucia il sud Italia. In Italia in corso 700 interventi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Odissea per 600 turisti accerchiati dalle fiamme nel Trapanese. Notte fra scuole e hotel messi a disposizione. Il ministro Galletti invia l'esercito sul Vesuvio per fermare i piromani assoldati dalla criminalità. E chiede l'applicazione della legge sugli ecoreati. Chi ha piccaro, chi si faccia a 20 anni di galera. Donald Trump atterrato a Parigi, il presidente americano mentre su di lui infuria lo scandalo del Russiagate vola in Europa e celebra in Francia i giorni della Bastiglia. Assiste alla sfilata sugli Champs-Élysées e poi nel pomeriggio istituzionale col numero uno all'Eliseo Emmanuel Macron cerca il disgelo col taikonocchi puntati sulle ricadute politiche dell'asse Francia-America che rischia di superare l'intesa così con Berlino. Allora in apertura lo dicevamo, il dramma povertà. Parliamo degli ultimi dati Istat che mettono in luce l'Italia, degli scartati. Quasi 5 milioni di poveri assoluti, persone cioè che dispongono a fatica di cibo e vestiti. I dati sono riferiti al 2016, 1 milione e 600 mila le famiglie più colpite, in particolare quelle più numerose. Aumenta anche il numero dei bambini italiani poveri che sale così al 12%, quasi due punti percentuali in più. Su tutto Maria Sara Farci, ascoltiamo. Sono quasi 5 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, esattamente 4 milioni e 742 mila. A riferirlo è l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2016, un dato che si attesta stabile sia per le famiglie che per gli individui rispetto agli anni precedenti. Ma a salire drasticamente è l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con tre o più figli minori a carico. Se nel 2015 erano il 18,3%, un anno dopo sono salite al 26,8%. Aumenta anche tra i bambini, sale infatti al 12,5% rispetto al 10,9% dell'anno precedente. Soprattutto nel centro Italia, qui l'incidenza della povertà assoluta è aumentata sia per le famiglie che per i singoli individui. A stare meglio sono gli anziani rispetto ai giovani. Il valore minimo di povertà assoluta, pari al 3,9%, si registra infatti tra le famiglie in cui la persona di riferimento è un'ultra 64enne. Sale al 10,4% tra le famiglie in cui il capofamiglia ha meno di 35 anni. Un dato che rispecchia l'alto livello di disoccupazione giovanile che colpisce il nostro paese. A pesare però è anche il titolo di studio. Come negli anni precedenti, l'incidenza della povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio. L'8,2% per chi ha un titolo di studio elementare contro il 4% di chi possiede almeno un diploma. A incidere però è anche la posizione professionale della persona di riferimento. Per le famiglie in cui è un operaio, l'incidenza della povertà assoluta è doppia rispetto al resto delle famiglie. L'Italia continua a bruciare anche la notte scorsa a fiamme. Venti di scirocco hanno alimentato numerosi focolai lungo tutta la penisola, specialmente al sud. Attualmente fanno sapere i vigili del fuoco. Sono 698 gli interventi ancora in corso. Il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti invia l'esercito sul Vesuvio per contrastare la piaga della criminalità in Sicilia. Resta massima l'allerta con sette province in fiamme. Allora i servizi sono di Beatrice Bossi, poi dalla Sicilia Gaetano Rizzo. Vediamo. Sono 698 gli incendi che in questo momento divampano in tutta Italia. Lo dicono i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme in ogni angolo del paese. Anche la protezione civile parla di numeri da record. 430 le richieste di intervento nell'ultimo mese, cifre mai registrate nell'ultimo decennio. Si lavora senza sosta sulle pendici del Vesuvio tra Ottaviano, Ercolano e Torre del Greco. Fin dalle prime ore di questa mattina tre Canada stanno facendo la spolla tra il mare e il vulcano per tentare di spegnere fiamme che sembrano indomabili. A prendere fuoco soprattutto rami e foglie del sottobosco che generano continui focolai. Secondo la Col di Retti sono 12 miliardi gli alberi dei boschi italiani che a causa dell'incuria e dell'abbandono sono diventati giungle ingovernabili in preda ai piromani. Nei loro confronti il ministro dell'Ambiente ha scelto il pugno duro ipotizzando dietro questi roghi la mano della criminalità organizzata. Questo parco era un parco in ripresa e io non lo so perché non è il mio mestiere ma un parco in ripresa che punta sulla legalità può darsi che abbia dato fastidio a qualcuno. Situazione difficile anche in provincia di Cosenza dove nelle ultime ore si sono attivati una sessantina di roghi con seri pericoli per alcune abitazioni rurali. A Vibo Valencia invece un anziano è morto intossicato mentre cercava di spegnere l'incendio che stava mangiando il suo uliveto. Ma è la Sicilia la regione con più difficoltà con sette province su nove sotto osservazione e dove l'allerta è a massimi livelli. Non accenna a diminuire la situazione di emergenza in Sicilia sul fronte degli incendi ed anche quella di oggi quindi si preannuncia una giornata a rischio elevato per via delle alte temperature. Centinaia di roghi hanno interessato quasi tutta l'isola minacciando abitazioni e come nel caso di ieri a San Vito Lo Capo nel Trapanese anche zone popolate da turisti. Parallelo all'impegno della protezione civile c'è quello delle forze dell'ordine che non escludono la presenza della mano mafiosa dietro buona parte degli incendi. E' chiaro che noi non possiamo assolutamente permettere né che queste zone che siano danneggiate vengano praticamente poi destinate alle speculazioni, edilizie, fonti aria perché a volte alcuni incendi nascono anche per questo. Danni incalcolabili quelli che si sono registrati sin qui non solo sul fronte della flora ma anche della fauna. Il danno è grave anche perché si deve ricostituire quella fauna del suolo che crea in realtà quello che noi chiamiamo suolo e che è la parte fertile della terra, la parte che ci dà poi di fatto la vita. Noi sappiamo che per lo più queste situazioni, gli incendi, sono di tipo doloso. Quello che riesco a pensare è semplicemente un controllo del territorio maggiore anche da parte con la cooperazione delle organizzazioni ambientalistiche si potrebbe pensare di controllare meglio. Grazie mille. Un'emergenza senza fine in 20 operazioni di soccorso sono stati salvati nella notte davanti alle coste della Libia circa 4100 migranti. Il tutto nel giorno della missione a Tripoli del ministro dell'interno Minniti che tra poco incontra 13 sindaci delle aree del sud del paese per convincerli a mobilitarsi contro i trafficanti di esseri umani, mentre il premier libico al Sarrai per la prima volta minaccia di bombardare le navi degli scafisti. Qualcosa si muove dunque anche se tra i paesi europei le divisioni restano evidenti come emerso nel vertice di ieri a Trieste tra Gentiloni, Merkel e Macron. Io credo che sia importante il fatto che Italia, Francia e Germania si riuniscano e condividano alcune idee fondamentali su quello che deve essere il processo di rilancio dell'Unione Europea. Se la cancelliera Merkel manifesta disponibilità a collaborare con l'Italia a marcare le differenze resta soprattutto il presidente francese Macron che ribadisce il suo no all'accoglienza di migranti economici e non rifugiati politici. Ma l'emergenza in migrazione diventa materia di scontro con i 5 stelle che chiedono a Gentiloni di riferire in Parlamento. Noi abbiamo scoperto oggi da Frontex parole di Frontex che l'Italia ha dato l'accordo ed era d'accordo a far sbarcare tutti i migranti nei porti italiani. Allora. Stamattina poco prima delle 9 il presidente americano è arrivato a Parigi per partecipare alla parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées. Altissime le misure di sicurezza, la visita di Trump in Francia nel giorno della Bastiglia apre così la riflessione sul ruolo della Francia in Europa e sull'asse Parigi-Berlino che appare sempre più fragile. Marco Bergamaschi. In una Parigi blindata da imponenti misure di sicurezza e infibrillazione per i preparativi dell'anniversario della presa della Bastiglia è giunto stamane Donald Trump. Il presidente statunitense sarà ospite dell'Elysée o per assistere alla tradizionale sfilata del 14 luglio. Ad invitarlo a Parigi lo stesso presidente francese Emmanuel Macron che incontrerà anche il cancelliere Merkel per il vertice franco-tedesco. Una visita di due giorni, quella di Trump, che punterà anche a cercare di smussare le tensioni create con l'Europa dopo la decisione degli Stati Uniti di abbandonare l'accordo sul clima. In patria non si placa la tempesta sul Russiagate. La CNN ha rivelato in esclusiva un video di quattro anni fa in cui si vede Donald Trump a cena con le figure chiave dello scandalo sulle presunte ingerenze della Russia nelle elezioni. Sul fronte investigativo la Commissione Giustizia del Senato vuole procedere all'interrogatorio di Donald Trump Jr. e di Paul Manafort, ex responsabile della campagna elettorale, e al congresso giunge la prima richiesta di impeachment del presidente. Trump sostiene di aver saputo solo due giorni fa dell'incontro del figlio dello scorso giugno con l'avvocatessa russa che aveva offerto informazioni compromettenti sulla loro rivale democratica per la Casa Bianca Hillary Clinton. L'indagine su Russiagate non è una caccia alle streghe e qualunque tentativo di interferire inaccettabile. A dirlo il nuovo responsabile dell'FBI, Christopher Wray, nell'audizione al Senato di conferma a capo del Federal Bureau. Parliamo ora del blackout di stamattina all'aeroporto di Milano Linate che ha costretto di fatto a una singolare modalità di far fronte ai disagi. Intorno alle 6.30 della mattina durante la fascia, cioè col maggior numero di voli in partenza, è andato in tilt nello scalo il sistema di registrazione telematico dei check-in. Così il personale delle varie compagnie aeree ha dovuto registrare le carte d'imbarco come si faceva una volta, cioè manualmente. File lunghe e più lente, come potrete immaginare, immancabili ritardi nelle partenze. Anche la registrazione dei bagagli da stiva, cioè da spedire, è stata fatta manualmente. Le tecnici tuttora al lavoro per risolvere il disguido. Cambiamo argomento. Papa Francesco aveva aperto lì a Bangui la prima storica porta del Giubileo della Misericordia. Dalla sua visita in poi si erano sensibilmente ridotti i conflitti. Parliamo di tutto il Centrafrica, dove purtroppo lo scorso giugno sono esplose poi nuove violenze, seguite da un nuovo sforzo da parte della comunità di Sant'Egidio di riportare la pace con una tregua fra 13 diverse fazioni. Da allora un comitato di sorveglianza vigila sul mantenimento delle promesse raggiunte. I dettagli di come avanza questo processo di pace li chiediamo in diretta dalla conferenza stampa da Piazza Sant'Egidio, convocata stamattina a storica sede dell'Associazione. Lo vedete a Federico Plotti. Federico, buongiorno, ti ascoltiamo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Allora, come dicevi tu, siamo nella sede romana della comunità di Sant'Egidio a Trastevere a Roma e oggi appunto venivano presentati i risultati della mediazione che la comunità di Sant'Egidio sta facendo, sta portando avanti per la pacificazione della Repubblica Centroafricana, paese devastato ormai da più di cinque anni da una violentissima guerra civile che ha prodotto migliaia di morti e migliaia di sfollati. Poco meno di un mese fa, proprio qui, era stato firmato un accordo di pace tra il governo legittimo della Repubblica Centroafricana e i gruppi politici militari che si contrappongono appunto a questo, al governo. Poco meno di un mese, ma i risultati di questo accordo si cominciano a vedere soprattutto nella capitale Bangui. Lo ricordavi anche tu Nicola Dastudio in cui nel novembre del 2015 è andato in visita Papa Francesco. Nella capitale la situazione in questo momento è abbastanza tranquilla, ma nel resto del paese invece la situazione è ancora difficile. Poco fa noi abbiamo intervistato Mauro Garofalo, che è il responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio. Lui è tornato da qualche giorno proprio dal Sud Africa. Allora ascoltiamo che cosa ci ha detto e subito dopo la lina può tornare allo studio. La situazione nella capitale è molto tranquilla con una certa crescita economica. Purtroppo siamo in un paese in cui circa il 65-70% del territorio non è sotto il controllo dello Stato ma sotto il controllo dei gruppi armati e quindi in piena economia di guerra se vogliamo. Il viaggio a Bangui è servito per riaffermare la volontà di tutti a rispettare l'accordo e a procedere sulla messa in atto anche attraverso degli specifici strumenti di tutti i termini previsti dall'accordo. Ecco, quindi Bangui forse è una sorta di isola felice, tra virgolette, in un paese che poi invece, e comunque continua ad essere martoriato, un paese molto grande, pochi abitanti in un paese molto grande. Beh, grande poco o meno della Francia con soli 5 milioni di abitanti. È per lo più impraticabile perché le regioni più lontane si raggiungono con l'aereo o solo con lunghi giorni di viaggio per auto. Quindi anche questo è un ostacolo, è un rallentamento dell'applicazione dell'accordo ma noi siamo abbastanza fiduciosi che questo si potrà nei prossimi settimane e mesi svolgere. Ecco, c'è una roadmap, l'avete? Quali sono i prossimi appuntamenti, scadenze? I prossimi appuntamenti saranno quasi subito perché già dalla settimana prossima dovrebbe vedere l'USC e questo comité de suivi promulgato dal Presidente e approvato dall'Assemblea nazionale che potrà di volta in volta applicare le misure contenute nell'accordo. E ci sarà la partecipazione anche di Sant'Egidio ovviamente come garante internazionale ma anche degli stessi gruppi armati che invieranno un loro rappresentante per rappresentarli tutti ma poi saranno tutti comunque presenti. Ed è tutto, vi lascio a terza pagina, con Saavedo Simonelli andiamo a Cortona per il Festival della Musica Sacra. Buona visione, arrivederci.